Credo che Siena e come Viareggio e del resto e anche come tutta la Toscana siano un'eccellenza per quanto riguarda la sanità e la salute perché spesso si confonde la sanità con la salute allorché si parla di strutture e di amministrazione. In realtà la salute va declinata su tutti i territori. Una grande occasione quest'anno poi la scelta di vivere questi giorni fra quello che è l'apertura Torre del Lago a Viareggio ma che trova il suo sviluppo a Siena. È veramente un festival toscano nel senso anche della pluralità delle sedi e dei luoghi di dibattito e di esposizione di attività che si svolge in Toscana. In un momento quanto mai attuale perché noi abbiamo bisogno accanto al far fronte ai servizi e a quella che è la situazione che è sempre una situazione comunque di emergenza sanitaria anche di pensare in senso strategico di pensare ai vari aspetti che focalizzano l'attenzione sul sistema di vita e di salute che dobbiamo assicurare al futuro. E quindi veramente l'orgoglio da parte mia di vedere la Toscana pienamente coinvolta con un festival della salute che si presenta con un'occasione di richiamo nazionale ma anzi direi internazionale. Sì è un appuntamento importante che si snoda tra Viareggio e Siena e che rappresenta un momento di riflessione tra i più rilevanti nel nostro Paese sulle questioni della sanità e più in generale del diritto alla salute. Credo che i momenti come questo siano estremamente utili perché noi veniamo da una fase emergenziale, siamo ancora dentro una vicenda pandemica dove da una parte c'è stata una necessità anche di prendere decisioni in tempi molto stretti, a volte accorciando, ridimensionando i processi di partecipazione. Invece io credo che la sanità e le politiche per la promozione del diritto alla salute abbiano bisogno anche di condivisione, di momenti di dibattito, di confronto, di riflessioni, di scambio di informazioni, di esperienze e occasioni come il Festival della Salute vanno in questa direzione, sia per la componente che approfondirà molto sugli aspetti di natura più strettamente sanitaria, legati alla presa in carico, all'assistenza dei cittadini e anche alla proiezione post-Covid. Pensiamo alle grandi sfide che ci pone il PNRR solo per fare l'esempio più rilevante, ma anche ragionare sulle questioni dell'innovazione, dello sviluppo. Sappiamo bene che la sanità e la salute sono prima di tutto un diritto di natura costituzionale in termini di risposte da dare ai cittadini, ma sono anche un grande motore di sviluppo per il nostro Paese e per la nostra Regione in particolare, dove sono presenti grandi esperienze industriali, centri di ricerca, poli di innovazione che possono da una parte arricchire la risposta del sistema sanitario e dall'altra creare anche occasioni di lavoro e di sviluppo per i territori. Direi un Festival di grande importanza. Abbiamo deciso, insieme alla mia Giunta, è il secondo anno che noi facciamo questo Festival della Salute e l'assessore si è molto speso, l'assessore Appolloni si è molto speso per l'organizzazione del Festival. Credo che Siena e come Viareggio, del resto e anche come tutta la Toscana, siano un'eccellenza per quanto riguarda la sanità e la salute, perché spesso si confonde la sanità con la salute, allorché si parla di strutture e di amministrazione. In realtà la salute va declinata su tutti i territori. Ecco l'importanza quindi di andare su territori per parlare proprio di quello che è uno dei nostri obiettivi principali. Abbiamo, sapete, un ospedale, fra l'altro anche con cliniche universitarie, di grandissima importanza. E abbiamo soprattutto le scienze della vita con TLS che noi speriamo siano un luogo di attrazione e un luogo scientifico che serva proprio per incrementare sempre di più la salute nell'ambito, diciamo, non solo della Toscana ma di tutta Italia.